Eccoci qua. Inaugurato sabato scorso ad Agropoli un nuovo punto informativo sul lungomare San Marco. A gestirlo sarà l'associazione Cilento Mania, presieduta da Orlando di Scola, con il patrocinio del comune di Agropoli. Un altro punto di riferimento per i turisti che giungono in visita nella città di Agropoli, che si aggiunge ai già tanti operativi punti strategici dislocati nella cittadina agropolese. Eh sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo approdati a questo onnesimo successo con Francesco. Abbiamo dato il via anche qui all'Infopoint sul lungomare San Marco. L'anno scorso era una piccola casetta in legno, che era un esperimento, che ci è piaciuta l'idea. L'anno scorso queste ragazze sono riuscite a far arrivare al punto informazione circa 5.000 persone, parliamo di persone che fisicamente si sono fermate a chiedere informazioni, non quello che passava e si prendeva tipo un opuscoletto e andava via. Per noi è un grande successo. L'anno scorso abbiamo dato al sindaco, all'amministrazione, un report di quelle che erano le criticità, ma anche le cose belle che tanti turisti hanno detto sul nostro territorio. Quindi questo ci ha fatto capire che stiamo andando bene e dobbiamo continuare sicuramente a fare questo. Noi abbiamo fatto questo nuovo brand che si chiama Cilento-Rento Tonoligio. Abbiamo aperto già questo punto a Pestum, Agropoli già ci siamo, ormai ci siamo già da qualche anno, e abbiamo già tanti progetti in mente, aeroporto di Ponte Cagnano, Castellabate, Acciaroli, Palinuro, abbiamo tante cose che bollono in pentola. Quindi vediamo, è una collaborazione che abbiamo capito che funziona e quindi la portiamo avanti. Un posto più bello di questo non potevamo trovarlo per fare informazione turistica, perché sul lungomare è una via di passaggio importante, c'è un importante passeggio. È il primo punto di riferimento che incontrano i turisti quando arrivano in città, quindi era giusto attrezzarlo nel modo corretto. Vogliamo naturalmente ringraziare Cilento Mania per averci stimolato rispetto a questa iniziativa. Noi con loro abbiamo cominciato, come ho detto, un percorso e noi siamo felici oggi di poter inaugurare questo punto di informazione. È una bellissima struttura anche in termini di bellezza in sé e questo non guasta. Ci auguriamo veramente che sia produttivo di risultati importanti. L'informazione turistica è uno degli elementi essenziali per far crescere una città da un punto di vista turistico. Noi ci crediamo, questo è il quarto punto di informazione turistico in città e siamo felici di inaugurarlo stasera, immaginando di proseguire nel tempo, come ho detto questa collaborazione, che sono sicuro che produrrà effetti positivi.